per aiutarci e per aiutarmi in questa avventura, ma staranno vicino tutti quanti noi e insieme andremo avanti, andremo molto lontano. Poi grazie di nuova, di nuova sarà sicuramente la nostra marcia in più. Grazie. Buonasera e buonasera a tutti, buonasera a tutti carissimi amici che veramente con tanta generosità avete offerto la vostra disponibilità a candidati. Grazie. 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 Grazie.